Rockstar Bah diciamo che Noi non abbiamo mai parlato Di essere o diventare delle rockstar E soprattutto Dovreste dirci voi Cosa vuol dire essere una rockstar Si è vero Il nuovo pezzo segna effettivamente Una svolta stilistica importante Abbiamo privilegiato rispetto alle canzoni passate Un suono di chitarra più deciso Riff più presenti Allo stesso modo del suono della batteria E del basso Questa è stata una scelta stilistica Che non è nata Fin dall'inizio Perché come al solito partiamo seguendo una strada Ma poi La produzione La registrazione Ci porta Ad ottenere Molto spesso Un risultato che non era quello pensato all'inizio Per quanto riguarda il nuovo video La decisione è stata di far partecipare anche questa volta E il nostro pubblico La stessa decisione che avevamo preso per il video di Attraverso lo specchio Decisione che fu premiante in quanto Il video venne apprezzato Sia dalla critica sia dal pubblico Anche per questo video quindi partiremo a breve con un casting Tra i nostri fan Più Più affezionati Che potranno partecipare alle riprese E entrare così a far parte attivamente del progetto Ombre su Beto Essere Definiti Pop ad oggi secondo me è un vanto Un periodo in cui si cerca la complessità dei suoni sempre più stratificati La ricerca della semplicità Della melodia che va diretta al punto Senza fronzoli E' per noi un obiettivo E puntiamo attivamente durante il processo di scrittura a raggiungerlo Come sono andato? Bene direi Oh yeah E' per noi